ciao omar e ciao a tutti ti volevo ringraziare per avermi nominato e prima di nominare altre due persone volevo invitarvi a sostenere la trasferta di questi ragazzi alle special olympics che avranno luogo ad abu dhabi dal 14 al 21 marzo quindi adotta un campione anche tu e sostiene la trasferta di questi ragazzi e altri 7 mila atleti alle special olympics di abu dhabi vi ringrazio e nomino andrea ranocchia e settimio benedusi rispettivamente campione di calcio e campione di fotografia